Il video di oggi è dedicato a tutti voi, questo perché abbiamo raggiunto 15.000 iscritti al canale YouTube che un tempo reputavo essere solo il mio canale YouTube ma credo che da adesso in avanti sia più opportuno considerare il canale YouTube di tutti noi, quindi il nostro canale sta continuando a crescere e sicuramente è anche merito vostro perché grazie anche alle vostre condivisioni, alla vostra presenza che questo canale può continuare ad esistere. Il mio impegno è ovviamente rinnovato nel continuare a creare dei nuovi contenuti sotto forma di video, devo ringraziare e spero vogliate unirmi a me in questo un'altra persona che è colei che permette che questi video vengano pubblicati ed è la mia dolce metà Valentina lei ha una forte passione per le foto e i video e quindi ha messo a disposizione questo suo hobby per aiutarmi a portare avanti il progetto del canale YouTube e lei infatti che si occupa di fare tutte le modifiche ai video che io preparo perché ovviamente a volte mi dilungo troppo per esempio e mi dice che approfondisco a tal punto da far risultare un video tutorial quasi in un seminario e a volte in effetti non mi rendo conto ma magari ci sono dei video in cui ho parlato per 25 minuti. Lei in questo è molto abile perché fa tagli ai cuci come giustamente è importante fare per rendere il video anche facilmente diciamo così visionabile senza avere sempre tante ore a disposizione perché la nostra quotidianità ovviamente è fatta di tante attività e quindi quando si vuole approfondire un argomento spesso è necessario compattarlo in pochi minuti questo approfondimento e lei rende tutto questo possibile. Devo ringraziare ovviamente anche Zeus come sapete è stato lui la mia primissima spalla e con lui ci sono stati i primi video tutorial anche molto divertenti purtroppo come sapete Zeus non c'è più ma c'è una nuova spalla se così la vogliamo definire che mister cooper ultimamente un po' latitante da questo punto di vista perché non è proprio così disponibile a partecipare ai video tutorial a breve tornerà anche lui alla ribalta e sarà protagonista di alcuni video tutorial un po' più pratici dove alcuni concetti che abbiamo visto sotto forma teorica inizieremo a renderli più pratici che dirvi vi ringrazio nuovamente continuate a condividere i contenuti del canale perché è un buon modo per fare divulgazione se davvero vogliamo cercare di limitare, confinare il più possibile la disinformazione una leva su cui agire è quella di creare informazione e soprattutto di diffondere questa informazione le vostre condivisioni sono quelle che permettono di diffondere quelle che sono le nozioni quelli che possono essere gli accorgimenti che aiuteranno i nostri cani e i nostri gatti a condividere la nostra quotidianità vi ringrazio ancora di cuore e ci vediamo al prossimo video ciao a presto ciao a presto